buongiorno buongiorno a tutti buongiorno e buona domenica allora cominciamo le prime previsioni da oggi 6 agosto per siti colpi però si escono più numeri in settimana cambia ok allora questa settimana sono usciti diverse volte due numeri con numero normale anche con l'extra e poi fino a ieri abbiamo fatto 3 vendere di sera abbiamo fatto 33 numeri abbiamo preso le nostre spese ma penso a 50 euro ma vanno bene lo stesso sono contenti per le persone che hanno vinto e grazie ancora della fiducia grazie grazie prima di iniziare i ragazzi le previsioni sempre gratuitamente gratis e che non è ancora scritto nel canale youtube si scrive e attiva il campanellino così arriva la notifica quando metto le previsioni ok allora cominciamo con queste bellissime previsioni metodo funzionante e speriamo che facciamo un quattro come abbiamo fatto altra volta anzi due quattro l'ho fatto veramente due tre volte io personalmente il gruppo l'hanno vinto una volta solo con i quattro numeri ok con quattro significa quattro numeri si prendono un bella cifra di mila euro ok allora di previsioni ragazzi sono questi si giocano con l'extra ok sempre lui dico e poi dico un'altra cosa si gioca chi vuole giocare il mattino giocare il mattino perché sapete che si giocano due volte due volte al giorno le ore fino alle ore di luna nel 13 e poi le otto e mezza voi scegliete come volete io non obbligo a nessuno di giocare tutto il giorno mattina e la sera scegliete voi quando volete andare a giocare mi raccomando mi raccomando io non obbligo a nessuno unica cosa giocatore sempre con l'extra ok allora 6 21 41 49 52 e poi 6 8 20 34 44 ok come ho fatto sempre e auguro a tutti buona fortuna sono contento veramente con quella che hanno vinto va bene non 3 però mi fa bellissimo qualcuno si è accontentato anche con 50 euro va bene speriamo bene tutti oggi pomeriggio preparo il lotto anche 10 all'otto serali per martedì prossimo auguro a tutti buona domenica alla prossima ok da carino mi raccomando che non ancora scritto si iscrivi nel canale youtube attiva il campanellino così arriva la notifica se qualcuno arriva la notifica tira via il cance tirati via la campanellino la mettiti di nuovo e vedrai che arriva la notifica anche buona giornata a tutti alla prossima ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti buongiorno e buona domenica allora cominciamo le prime previsioni con milioni da oggi 6 agosto per siti colpi però si escono più numeri in settimana cambia ok allora questa settimana sono usciti diverse volte due numeri con numero normale anche con l'extra e poi fino a ieri abbiamo fatto 3 vendere di sera abbiamo fatto 33 numeri abbiamo preso le nostre spese ma penso a 50 euro ma vanno bene lo stesso sono contenti per le persone che hanno vinto e grazie ancora di la fiducia grazie grazie prima di iniziare i ragazzi le previsioni sempre gratuitamente gratis e che non è ancora scritto nel canale youtube si scrive e attiva il campanellino così arriva la notifica quando metto le previsioni ok allora cominciamo con queste bellissime previsioni metodo funzionante e speriamo che facciamo un quattro come abbiamo fatto altra volta anzi due quattro l'ho fatta veramente due tre volte io personalmente il gruppo l'hanno vinto una volta solo con i quattro numeri ok con quattro significa quattro numeri si prendono un bella cifra di 1000 euro ok allora di previsioni ragazzi sono questi si giocano con l'extra ok sempre lui dico e poi dico un'altra cosa si gioca chi vuole giocare il mattino giocare il mattino perché lo sapete che si giocano due volte due volte al giorno le ore fino alle ore di luna alle 13 e poi alle otto e mezza voi scegliete come volete io non obbligo a nessuno di giocare tutto il giorno mattina e la sera scegliete voi quando volete andare a giocare mi raccomando mi raccomando io non obbligo a nessuno l'unica cosa giocatore sempre con l'extra ok allora 6 21 41 49 52 e poi 6 8 20 34 44 ok come ho fatto sempre e auguro a tutti buona fortuna sono contento veramente con quelle che hanno vinto va bene oltre però va bellissimo se qualcuno si è accontentato anche con 50 euro va bene e speriamo bene tutti oggi pomeriggio preparo il lotto anche 10 all 8 serali per martedì prossimo auguro a tutti buona domenica alla prossima ok da carino mi raccomando che non ancora scritto si iscrivi nel canale youtube attiva il campanellino così le arriva la notifica se qualcuno arriva la notifica tira via il cance tirati via la campanellino la mettiti di nuovo vedrai che arriva la notifica ok buona giornata a tutti alla prossima ciao ciao